Domenica 30 giugno al Miralfiore si terrà una camminata per il parco guidata da Alessandro Giardini, un ragazzo che è riuscito ad uscire dal tunnel della droga e che ora vuole combatterla. Sarà un tour per le zone rosse del parco che porterà i cittadini in cinque tappe significative e mostrerà loro come, dove e quando avviene lo spaccio e l'utilizzo di droghe al Miralfiore. Una passeggiata che visti i recenti fatti di cronaca che hanno visto una morte per overdose proprio al parco nella giornata di venerdì assume un significato ancora più profondo e importante. Stefano è morto venerdì, era un ragazzo che io conoscevo con ovviamente problemi di tossicodipendenza e ancora oggi diciamo la botta è fresca e in me c'è un mix di emozioni che vanno dalla rabbia, dalla tristezza ovviamente, dal dolore, ma anche da una forte, da una grande forza che mi ha caricato ancora di più per rendere, per aggiungere un obiettivo alla mia campagna di prevenzione, rendere lo spaccio dentro il parco una sorta di attività che la voglio far diventare difficoltosa per questi venditori di morte che purtroppo sono un cancro per la nostra la società e quindi non è giusto che Stefano sia morto solo in mezzo di una boscaglia del parco Miralfiore mentre loro ancora stavano lì a vendere droga. Quindi l'obiettivo si allarga e oltre alla prevenzione e alla lotta alla droga ci sarà proprio una lotta allo spaccio in quanto domenica sarà la prima di tante manifestazioni che io organizzerò dentro al parco, nelle zone rosse diciamo, proprio le zone dove loro spacciano, proprio per dargli fastidio. Noi non abbiamo paura, non ci facciamo problemi e andiamo avanti per la nostra strada. Ci racconti un po' questa passeggiata, come nasce la volontà di farla e soprattutto che percorso sarà? Lo spaccio avviene in queste zone dove noi andremo domenica 30 giugno, dalle ore 17.30 e faremo questa camminata che io l'ho pensata come una via crucis perché due motivi, la vita di un tossicodipendente è un po' una via crucis diciamo e noi abbiamo messo giù proprio delle tappe in cui io farò vedere dove avviene lo spaccio, come avviene lo spiaccio, quando e come viene la compravendita e di seguito il cedimento della dose. Questo perché? Perché i cittadini pesaresi devono rendersi conto di quello che avviene. Del parco se ne parla in tanti modi, in tante sfaccettature, ma non è mai successo che una guida turistica diciamo del tossicodipendente perché io vengo da vent'anni di tossicodipendenza, organizzo un evento del genere. Quindi noi andremo nelle zone rosse dello spaccio del parco.